Domenico Donofrio è il presidente onorario della Runner Pescara, torna alla sesta edizione della Maratonina del Mare, giornata di sport ancora importante per Pescara. Sì, sì, la Maratonina del Mare deve essere un classico del circuito polistico italiano e diciamo che tolto l'aerom a Pescara adesso è la maratonina più importante che c'è a livello nazionale, quindi per noi è un onore poterla gestire ma la vende molto molto difficile. Una gara riservata a tutte le categorie e a tutte le età? Sì, da 0 a 90 anni si può correre, sono i bambini la mattina alle 9 allo stadio, dalle 9 e mezza partirà la passeggiata per tutte le famiglie, partirà una 10 chilometri tranquilla non competitiva quindi con molta tranquillità e soprattutto partirà la mezza maratona. Quest'anno abbiamo previsto circa 1.603 da tutta Italia che verranno a disputarsi dei 21 chilometri all'interno della città di Pescara, quindi passeremo al centro di Pescara, passeremo sulla Golena, il percorso è molto molto bello a partenza dallo splendido stadio adriatico che abbiamo a Pescara. Quindi toccherete un po' tutte le parti della cittadina adriatica? Sì, sì, passeremo dappertutto, come l'anno scorso ho corso Umberto vicino alla stazione, qui a Regola Fabrisi, la Golena, lo stadio, il lungo fiume sud, il lungomare sud, quindi sarebbe un percorso molto bello e molto variegato. Grazie a tutti.